siamo sul web come nel film il giustiziere della notte tutti quanti tristi come charlotte ma poi letali come charles bronson ad essere contenti per la malattia di boris johnson se l'è cercata detto dell'immunità degreggie allora sto fatto d'essere più buoni proprio non regge ci piace tanto guardar religiosamente il prossimo e poi godere del suo male che te possino ci piace dire come sempre che cambieremo ma tutto rimane un po come sanremo non lo guarda nessuno ma in verità ci piace sfancularlo tanto per parlare abbiamo sempre sentimenti contrastanti riguardo a tutti i fatti rilevanti ma i nostri atti valgono pochino se continuiamo a essere un popolo meschino